Dissociazione totale, crisi metropolitana e un desiderio di andare nel sud. Prima che mi spazi via, questo mio strano di nirio, una di brosi di più, che torna sui marciapiedi, traffico che picchia in testa, con questa razia che ho. Energie, forse ancora posso dire, fa parte del mio futuro, perché è stato un album veramente eccezionale. In quell'album ci sono dei brani che ancora adesso, quando li canto, mi diverto moltissimo e credo sia l'album più rappresentativo per me. Crisi metropolitana, per esempio, è stata la follia che anche quando la risento mi fa davvero tanto divertire. Così una vipera sarò, mentre l'addio è una romanza sempre dei tempi di oggi. Non mi ha mai interessato, lo stadio dello specchio, non leggo mai trattati, economia politica. Comunque se mi toccano, dov'è il mio punto debole? Divento incandescente, sarò una vipera. Non leggo mai giornali, per rilassarsi un po', mi piace più cantare. Grazie 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 a tutti.